Perché non c'è Balotelli? Perché l'allenatore fa le sue scelte e dopo fare la sua scelta ha deciso anche di non parlare dei giocatori non convocati. Siamo qua a Londra con vinte giocatori per giocare questa partita. Balotelli, Kivo, Arnautovic e Kreen sono rimasti in Italia e di questi quattro giocatori non vado a parlare.